Ben trovati amici di Orizzonte Scuola, ben trovati a questo nuovo Tu per Tu, il nostro ciclo di interviste con i protagonisti del mondo della scuola. Quest'oggi siamo con Ivana Barbacci, segretario generale della scuola che faccio subito entrare. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, segretario, i temi sono tanti, questo fine anno comunque ha riservato anche qualche notizia in qualche modo positiva, comunque sicuramente c'era tanta attesa per quanto riguarda il rinnovo contratuale, in un modo o nell'altro si è portato a termine, anche se adesso non è finita perché bisogna pensare alla parte normativa di cui appunto parleremo e anche poi al prossimo contratto. Le chiedo appunto un giudizio complessivo su questo rinnovo contratuale anche alla luce degli eletrati che già, come sappiamo, in questi giorni hanno fatto anche un po' discutere e che stanno per arrivare nelle tasche dei lavoratori della scuola. Allora, abbiamo sottoscritto una parte del rinnovo contrattuale, come è noto, che riguarda il 95% delle risorse delle leggi di bilancio 2019-2021. È stata un'operazione necessaria, opportuna, che ovviamente per l'entità anche delle risorse non rappresenta la risposta definitiva che compete a un personale della scuola qualificato e soprattutto impegnato in un passaggio complesso anche di trasformazione del proprio lavoro. Quindi siamo ben consapevoli che quanto fatto rappresenta, mi sento di dire, un ristoro in termini di liquidità economica da poter mettere a disposizione entro dicembre. Sono arretrati che riguardano i tre anni, 19-20-21 per il 95%, torno a dire. Ci sono state delle polemiche in queste ore sulle cifre, ci sono in alcuni casi anche delle inesattezze, però mi sento di dire che le cifre espresse anche nei nostri siti o comunque nelle testate giornalistiche sono cifre corrette, soprattutto perché sono indicate nell'ordo e quindi poi ciascuno deve fare le proprie considerazioni basandosi sulla propria situazione fiscale. Quindi il netto non può essere definito attraverso delle tabelle che vanno bene per tutti. C'è una quota parte che deve essere ancora assegnata che è quella del 2022, quindi i colleghi non stanno vedendo l'emissione speciale del 2022 che vedranno a gennaio, così come manca ancora il 5% del 100% dei tre anni di legge di bilancio e per il personale docente i 300 milioni di euro che abbiamo, come dire, liberalizzato per ciò che riguarda la valorizzazione del personale docente che troveremo pienamente nell'RPD con la seconda parte del contratto parte economica. Anche questo non è un'operazione sufficiente per poter dire che abbiamo allineato gli stipendi del personale docente e del personale ATA alle complessità e alle legittime aspettative, però questa è un'occasione che non potevamo perdere, l'abbiamo costa, andiamo avanti perché il cammino è ancora lungo. Infatti, comunque sappiamo che adesso entra nel vivo tutta la parte normativa. Ecco, secondo lei da questo punto di vista cosa bisogna fare, esattamente su cosa bisogna puntare, perché anche questo è un aspetto importante? La parte normativa è molto delicata, assolutamente sì, e ci è richiesta dal personale quasi con la stessa necessità e urgenza di quanto non possa essere un aumento contrattuale economico. La parte normativa dovrebbe intanto semplificare i profili, le responsabilità, indicare bene il perimetro e il confine dentro il quale si agisce, dentro il quale si muovono i diritti e i doveri. Dopodiché serve attualizzare il contratto, il contratto per come oggi è scritto non è più rispondente a quelle che sono le reali attività che vengono svolte, quindi fa fatica in alcuni casi anche a tutelare pienamente dal punto di vista giuridico e dal punto di vista contrattuale. Poi vanno fatte delle operazioni di equiparazione dei diritti tra il personale docente e il personale ATA a tempo determinato e a tempo indeterminato. Vanno superati i blocchi e i vincoli della mobilità, questo lo può fare il contratto collettivo nazionale di lavoro, dentro una logica in cui ci sono delle prese in carico in termini di tutele, ma anche in termini di garanzia, ad esempio di salvaguardia della continuità, ma non come punizione, ma come opportunità, come pari condizioni di reciprocità. Dopodiché vanno perfezionati alcuni passaggi, faccio solo un esempio, dal punto di vista delle attività funzionali e dell'insegnamento va chiarita l'esigibilità, va introdotta la formazione, la formazione deve essere collocata dentro gli obblighi professionali. Poi c'è tutto il paragrafo che riguarda gli ordinamenti del personale ATA che è particolarmente complesso perché lì ci sono degli aspetti di carattere giuridico, ma anche legati ad una serie di aspettative legittime, ma anche la messa a sistema di un'anomalia come quella degli assistenti amministrativi facenti funzione, oltre al diritto legittimo dei DSGA di vedersi riconoscere le proprie responsabilità e quindi i propri carichi di lavoro. Questi sono i grandi temi che attraversano un po' la parte normativa sulla quale mi sento di dire non siamo ancora entrati pienamente nel vivo e quindi dai primi di gennaio noi faremo di tutto perché possano esserci incontri serrati ma non affrettati, attenzione perché noi non dobbiamo chiudere a qualunque costo, noi dobbiamo chiudere bene cercando di migliorare il testo, non potremmo stravolgerlo, questo lo voglio dire in modo tale che siamo chiari, non è stravolgibile quel testo perché altrimenti ci vorrebbero due anni di elaborazione dal punto di vista tecnico, giuridico, non ce lo possiamo permettere, dobbiamo prendere quel testo, migliorarlo dal punto di vista della fruibilità, della chiarezza e della semplificazione aggiungendo dei passaggi migliorativi. Sì lei segretario ha poco fa toccato anche il tema della mobilità, quanto pare ci potrebbe essere una novità con il decreto miglia proroghe perché è stata inserita una norma che intanto va a derogare per il prossimo anno scolastico, ora aspettiamo il testo definitivo e poi ovviamente ancora più importante è il passaggio in Parlamento, però sappiamo che questo è un primo passo perché da settimane voi organizzazioni sindacali e amministrazione avete una serie di incontri proprio sul contratto di mobilità che in qualche modo rimane sempre bloccato su questa storia dei vincoli, si fanno incontri, si discute sulle nuove possibilità, però poi arrivando lì ci si blocca, quindi serve la volontà politica, secondo lei vorrebbe essere questa la volontà buona? Allora noi l'abbiamo detto dal primo momento perché siamo sempre stati convinti che i temi dei vincoli, il tema del vincolo dovesse essere preso in carica una volta per tutte, noi abbiamo come ricorderà sottoscritto un contratto da soli inserendoci nelle maglie di una normativa un po' come dire ambigua e questo ci ha permesso di poter concedere a migliaia di persone di poter fare la domanda di mobilità e bypassare dei vincoli. Poi è entrata in vigore una nuova legge, il decreto legge 36 che ha introdotto nuovi vincoli per i nuovi assunti e chiaramente questa partita deve essere necessariamente gestita per legge intanto capendo, cogliendo il principio che i vincoli fanno male al sistema scolastico oltre che alle persone. Chiunque è vincolato per legge soffre una impostazione coercitiva che non restituisce la libertà di esercizio anche del proprio progetto di vita nel luogo dove vive o dove decide di vivere. È chiaro che vanno garantite anche delle tutele agli studenti, quindi intanto mettiamo nelle condizioni il personale di conoscere le regole in tempo utile, anche per decidere dove fare le domande dei concorsi e dove dover magari restare degli anni e non cambiare le regole in corso. Il decreto mille proroghe dovrebbe, e ce lo auguriamo, andare esattamente in quella direzione, proprio perché ci sono dei vincoli che entrano in gioco nel momento in cui non si sono ancora realizzati i concorsi e quelli passati non avevano questi vincoli e cosa giusta non introdurli cambiando le regole. Mi sento di dire che però noi dobbiamo trattarlo nel contratto collettivo nazionale di lavoro perché i contratti integrativi da soli non ce la fanno a modificare le norme, quindi trattandosi di un aspetto di carattere organizzativo che riguarda anche la gestione del rapporto di lavoro, questo è tema del contratto collettivo nazionale di lavoro. Quindi durante la trattativa noi affronteremo questo tema. Intanto però c'è la mobilità 23-24 e quindi il mille proroghe è fondamentale se, come mi auguro, venga preso in carico, proprio perché ci permette di avere un margine di manovra almeno per l'anno prossimo per non ricadere per l'ennesima volta dentro una dinamica, ripeto, punitiva che non fa bene alla scuola in primis e non fa bene alle migliaia di lavoratrici e lavoratori che di fatto si sentono vittime di un sistema ripunitivo, in qualche modo agevolare il lavoro. Sì, nel frattempo, proprio in questi momenti, in queste ore, il Parlamento è impegnato con l'approvazione della legge di bilancio, un'approvazione un po' complicata, una corsa contro il tempo, insomma, come ben sappiamo, ma diciamo alla fine quello che interessa più a noi, quindi il capitolo scuola, volevo un commento perché comunque, inutile nasconderlo, magari ci si aspettava un'attenzione maggiore per il settore scuola, anche se il governo aveva già annunciato che la maggior parte delle attenzioni e le risorse sarebbero andate al caro energie, però è chiaro che questa legge di bilancio avrebbe potuto, in quanto meno, iniziare a risolvere qualcosa per il futuro. Lei come la pensa? Sì, ritengo che la legge di bilancio, questa legge di bilancio sia stata, come dire, chiusa ed è chiusa in queste ore in maniera anche piuttosto cambolesca, ma mi sento di dire che erano condizioni, sono condizioni straordinarie ed era immaginabile che ci fosse un'accelerata sui temi più urgenti. Su 33 miliardi della legge di bilancio, 21 sono destinati a sostenere il caro energia. Quindi solo questo dà l'idea di quanto non si possa contare su risorse significative per poter impostare invece quel lavoro che è molto importante e necessario e che invece andrà necessariamente impostato con altri atti. Allora, da un lato non ci aspettavamo granché, certamente non ci aspettiamo tagli. Voglio ricordare che nella legge di bilancio per quanto riguarda il ridisegno della rete scolastica, nella prima battuta, nel primo testo, nella prima ipotesi c'era una serie di limitazioni e di tagli a fronte della denatalità, ricordo che da qui ai prossimi dieci anni perderemo più di un milione e mezzo di studenti e questo è un tema gravissimo che va affrontato prima che sia troppo tardi. Però a fronte di questo la legge di bilancio impostava una serie di riorganizzazioni della rete scolastica operando già dai primi anni con tagli significativi. Il primo anno, 24-25, già perdevamo 117 istituzioni scolastiche, poi il 25-26-97 e poi si andava allentando. In questo momento, dopo vari interventi e di interlocuzioni, noi come ricorderai abbiamo scelto di non scioperare perché abbiamo capito che non potevamo scaricare sui lavoratori l'onere anche di eventuali modifiche che spettavano anche all'interlocuzione, alla negoziazione, al confronto. Dopo gli interventi che abbiamo fatto a più voci, a più mani, l'operazione si è mitigata anche per quanto riguarda il taglio delle istituzioni scolastiche, capovolgendo il paradigma. Quindi cominciamo con i primi tre anni dove i tagli sono fisiologici, non sono dragoniani come originariamente invece era previsto. Mancano però delle parti significative, mi sento di dire, che sono le risorse per rinnovare il contratto 22-24. Quello sì è un aspetto davvero importante che manca e che deve essere collocato in qualche dispositivo normativo che il Ministro Valditaria ci ha promesso, su cui lavorerà ad anno nuovo. Cioè un decreto scuola, in buona sostanza, serve un intervento specifico per la scuola che rilanci il sistema nella sua intensità, restituendo dignità da un lato di carattere economico e mettendo anche a sistema tutti gli interventi del PNRR, perché noi abbiamo un timore che dal PNRR ci sono molte risorse che sono però frammentate, sono disarticolate, creano carini di lavoro pesantissimi alle segreterie, al personale docente, non producono però quel beneficio per il quale il PNRR magari è stato pensato, a cominciare da tutta quella che è il ridisegno degli stili di apprendimento. Questo si può fare se abbassiamo il numero degli studenti per classe. Questo ad esempio era un'occasione da comuncare all'interno della legge di bilancio, insieme al disegno della rete scolastica, non c'è questo a disposizione, ci deve essere nella prossima intervento normativo che ci è stato promesso dal Ministero, ovvero intervenire sulle tabelle per l'abbassamento del numero degli studenti per classe. Poi vanno rifatte le tabelle per l'organico ATA, noi non possiamo pensare di aver bisogno dell'organico Covid perché non riusciamo a tenere aperte le scuole, cioè il Covid andiamo oltre, serve un organico ordinario che risponda alle necessità della scuola. Quello che c'è oggi non risponde all'ordinarietà del lavoro a scuola, quindi vanno modificate le tabelle che sono troppo vecchie, riguardano il 2007 e attualizzate alle complessità di questa fase. Un'ultima domanda prima di chiudere questa intervista, devo fare una battuta sulla circolare del Ministro Valditara, diffusa proprio in questi giorni, sull'uso del cellulare a scuola. Un tema che un po' ha fatto discutere perché già in realtà esisteva già una norma, quindi poi le scuole si sono dotate anche di regolamenti, magari abbiamo capito che non sono sempre stati utilizzati ad hoc, però comunque secondo lei è necessario questa stretta sullo smartphone in classe? Allora, mi sento di dire che servirebbe una riflessione aggiuntiva ed è questa. Siamo di fronte ad una transizione digitale forte e significativa che non possiamo arrestare con i divieti e quindi dobbiamo ben comprendere che cosa significa utilizzare uno smartphone, un computer, a seconda di dove mi trovo. Stando a scuola è evidente che l'utilizzo dello smartphone può essere reso idoneo per motivi didattici e questo è possibile e io credo che ci siano molte scuole che già lo fanno e hanno impostato anche la propria attività didattica utilizzando i device che possono essere i tablet, possono essere i computer portatili, possono essere i cellulari. Allora, non ho pensato che fosse necessaria una circolare ulteriore perché le scuole si sono già date un loro regolamento. Ciò che probabilmente è mancato è la verifica e i controlli perché questo regolamento venisse per un certo verso rispettato. Allora qui servono delle alleanze, bisogna ricostruire alleanze tra studenti, scuola e famiglia. Ci devono aiutare i genitori a far sì che quando un ragazzo porta a scuola il cellulare, se l'insegnante avvia un percorso didattico allora si tira fuori dallo zaino e si lavora anche con il cellulare. Se però c'è un'altra modalità perché si sta in classe, c'è la lezione, si scrive sul quaderno e il cellulare va tenuto nello zaino spento. Ma su questo serve un intervento congiunto tra scuola e famiglia. La scuola non ce la fa e non ce la farà nemmeno la circolare del ministro Valditara, mi sento di dire, perché le circolari da sole sono asettiche, vanno umanizzate, vanno contestualizzate, vanno rese esigibili con una grande anche cesso di consapevolezza. Quindi da un lato mi sento di dire che non possiamo demonizzare gli strumenti di comunicazione e tecnologici perché altrimenti saremmo antistorici e quindi ci collocheremo in una condizione decontestualizzata rispetto al mondo dei nostri ragazzi. D'altro lato dobbiamo orientarli, guidarli, mediare l'utilizzo di questi strumenti per fini didattici e ci sono delle sperimentazioni, dei progetti bellissimi che producono anche effetti ottimi anche per quei ragazzi che sono meno predisposti a stare attenti nella lezione tradizionale. Dall'altro lato però serve davvero una grande alleanza con le famiglie perché ci devono aiutare a scuola a far capire ai loro figli che il cellulare che squilla per i messaggi Whatsapp o per i video di Youtube non serve nel momento in cui sono in classe. Così come non serve per gli adulti, mi sento di dire che forse dobbiamo anche noi dare qualche buon esempio perché quando ci troviamo in condizioni per cui dobbiamo ascoltare le persone la prima cosa che facciamo invece è magari guardare il cellulare. Forse dovremmo già dare noi per primi l'esempio. Già, è tutto vero. Grazie Ivana Barbacci, segretaria generale della CISL Scuola per essere insomma stata con noi e vi do appuntamento a un nuovo appuntario a Tu per Tu con il nostro ciclo di interviste con i protagonisti del mondo della scuola. Buongiorno, Buongiorno, grazie.